Ho parlato anche di grossi artisti che avremmo avuto stasera qui per il premio Oscar. Quest'anno, per l'ottava edizione del Festival Nazionale della Canzone Italiana e Napoletana, il Ciac, in persona del maestro Ernesto Guarino, della sua grossa collaboratrice, che è anche regista dello spettacolo, per la quale propongo un applauso, la signora Rita Carbone, complimenti anche a lei, hanno ritenuto opportuno e giusto farlo, che lo spettacolo si è rivelato di una certa importanza, e se mi sia consentito dire anche, di una grossa importanza quello che è stato raggiunto con questo spettacolo, ha ritenuto opportuno premiare i grossi artisti con il premio Oscar. Ovviamente noi non siamo né all'altezza, né siamo dovuti a fare certe cose, se no avremmo dato il premio Nobel a queste persone, ma ci limitiamo al premio Oscar. Signori, premio Oscar per la popolarità internazionale, per lo spettacolo e per il teatro, Mario Merola! attenzione! Per 42 anni interrotti di attività artistica, premio Oscar per la popolarità internazionale, Oscar 1985 per la popolarità internazionale per il canto, Claudio Villa! Signori, con questi personaggi illustri che ho al mio fianco mi sia consentito che stasera mi sento un piccolo Pippo Baudo, o no Claudio? Il tempo deve abbattere! Ecco, questo è il microfono, qui c'è il microfono! Si può prendere! Dunque, noi abbiamo... Voi dovete sapere che molto tempo fa io e Mario facemmo una tournée negli Stati Uniti, allora c'è anche la mia povera mamma e si giocava a scopa, si giocava a carte, così sempre in maniera molto affettuosa e... E allora Mario Merola era... Diciamo che sono 16 anni fa... Ma beh, più che una promessa, non aveva naturalmente il nome di oggi e stava nella mia, diciamo così, mia compagnia e devo dire che faceva un enorme successo anche allora. E poi nel corso degli anni Merola è andato sempre più avanti e io sono stato fra quelli che ne sono stato particolarmente felice perché l'ho sempre considerato un amico fraterno e lui lo può confermare che è qui. Questa sera sono particolarmente contento, mi sembra di ritornare appunto a quel periodo, ma adesso mi sei cresciuto però, prima o almeno... E stasera avevamo pensato di regalarvi un qualche cosa di simpatico, solo che una preoccupazione ho dentro di me, si tratta di una canzone a cui pronuncia non so se Merola possa essere all'altezza, cioè è una canzone veramente napoletana verace e non so se Merola sia in grado di farla... Allora, sta parlando sempre lui perché io non ho un altro microfono, ecco perché io faccio... anche per dovere di ospitalità perché sta in casa nostra, puoi parlare fino a domani. Però Claudio, fammi sapere quale cazzola che io questa pronuncio, non pronuncio bene. Allora, farò... io ho pensato di presentare al pubblico, qui presente, un mio cavallo di battaglia. Qual è? Zappator. Vorrei pregarvi, carissimi, pregarvi di portarvi poco poco più dietro per una questione... Per questione di cose, ci perdiamo la luce, forse vuoi scherzare, guarda che a Zappator l'ho rilanciato, non l'ho lanciato ma l'ho rilanciato io, nel 72, palla al centro. Io ho fatto Zappator in televisione, credo che qualcuno qui me ne possa dare atto, con Franco Franchi e Ciccio Ingressi, per cui Zappator è un mio cavallo di battaglia, mi dispiace. Cioè, ma l'hai fatto dopo di me, no, 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 l'ho fatto prima, prima, io vengo prima. Ma guarda, era un Zappatore così allegro, per divertimento, muovere un Zappatore l'ha 56b, Claudio. Allora, per accontentare tutti quanti, noi questa sera, sono pronti, perché questo è un pretesto per far... insieme, perfetto. Questa sera vi facciamo un qualche cosa che non è che lo vedete ogni momento, è una cosa simpatica, improvvisata, lo abbiamo improvvisata qua dietro. L'abbiamo improvvisata perché con Mario, ripeto, quando si è amici come siamo noi, possiamo fare qualsiasi cosa. Allora, cimentarsi in questa meravigliosa canzone Zappatore, che ripeto, è un mio cavallo di battaglia, Mario, per cortesia, per cortesia. Eh? Allora? Allora? Siamo pronti? Arriva l'altro microfono, chiedo scusa. Ecco qua, almeno lo facciamo parlare. Io a Claudio Villa vorrei riferire una cosa, non so se... Dimmi, dimmi, dimmi. Chiedo scusa anche a Mario. Prego, prego. Ci tengo a questa cosa, poi che ieri sera il grosso Mike, il grande Mike, ha presentato nel giornalone di Super Flash, che lui chiama Super Flash, una tua fotografia di quando eri piccolo, e ha detto queste testuali parole. È attuale. Ha detto, Claudio Villa da piccolo non è che sia cresciuto molto, io dico che è cresciuto molto e anche artisticamente il grande Claudio Villa. Caro Mike, buongiorno. Mario, che ne dici? Che ne dici? E' benvenuto a parlare di Claudio Villa perché è una gemma della canzone italiana nel mondo. E' il mondo, è il mondo. E' la verità. Lui ha detto che abbiamo fatto una tournée assieme quasi 18 anni fa, 16, 17, 18 anni fa, e vi devo dire, ecco, l'amico Baldo ci dice proprio nel 64, 68, quindi io ero alle prime armi, e lui venivo dietro alle quinte a vedere e mi ha detto tu diventerai un grande artista, quindi devo ancora ringraziare perché Claudio Villa è quello che porta la canzone italiana nel mondo. Io ti ringrazio, devi ringraziare la tua sensibilità, le tue qualità e soprattutto, come tu sai, il ringraziamento maggiore va sempre al pubblico, che è sempre il pubblico che degreta il successo. E poi specie, diciamo che la città di Napoli ti amato, ti ama e ti amerà sempre perché hai portato sempre al successo alle nostre canzoni. Senta, ci porti un caffè dopo, eh. Ma qua il pubblico ci vuole bene, stiamo in famiglia. Diciamo questo, che noi non dovevamo cantare, signori, perché ci dispiace, poi arrivato qui ci dispiace non cantare. Ecco, questo è... Quindi, adesso parta la base. Dunque... Per non litigare fai una parte tu, una partina. No, volevo stabilire, siccome nella canzone Zappatore ci sono due persone, uno è una persona per bene e l'altra è un ufadente. E chi è un ufadente? Allora? Comunque, quanto canti tu, faccio io l'avvocato. Quanto canti, io fai l'avvocato. Per l'occasione. Vai, vai. Va bene, siamo pronti con la base. Felicissima sera a tutta sti signora angrovattata. A questa comitiva così all'era, due mani scicca e femmina vittata. Questa è una festa e balle, tutta che fracca e sciassa sti signora. E io caso ci sa coppù, sciarappalo, senza cercare per me sa pallipù. Chi so, ecco per la porta, a giurato da porta. E sottra su tocchè, musica, musica, fatevi portano. E io, stasera mi esastro a un benaricat, a balla un gom datino a zappatore. No signora avvocato, sentite a me, non vò mettite scuora. Chi veva fa signora, faccio zappare, è sta zappare ancora no tecchiori. È so due anni, due. E non scrive un'unica a casa tua. Su signorino se mette scuorni in lui. puri amolette scuorne o signori chi su di la sacchente dai song che luparend caro ma bocca già musica musicante è bella l'aldedì dimo vecerca scusa a tutti quanti si appalla e chiaglia in casa mia chiami musica musica mamma do io sono amore o sai che mamma do io amore e tagliam meglio si dembarava tappatore per quel tappatore non ti ha scorda mamma tagliam ancora ciò solo non mi ha scorda mamma do io amore ma mi ha scorda mamma do io amore ma non può Faccia musica, musicante, fatevi molto amore. Se già appater, che siete fanno ora, fate un occhio e fate un'estima. Claudio Villa, Merola. Signori, grazie. A domani, a buona domenica, e a Sanremo. Ospite d'onore, Claudio Villa e il vostro Merola a Sanremo. Grazie, amici. Bravo, bravo. Ho detto che Mario Merola non avrebbe cantato, mi ha avvisato da Frosinone mentre veniva da Roma. Bene, tutto quanto hanno fatto fino a questo momento, amici, era improvvisato, senza prove. Abbraccio, abbraccio. Bravura artistica, una prova d'altro. Mario, Mario, Mario. Il maestro Guarino ha portato i premi Oscar, per cui io prego tanto. gli assessori, l'assessore Giovanni della Corte, allo sport del Comune di Napoli, è presente, l'assessore della Corte, per portarsi in palcoscenico.